Ciao a tutti, sono Roberto Villa, product special di Sparkular per audio effetti. Sparkular ormai è un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. Da quando è stato lanciato ha letteralmente rivoluzionato il mercato degli effetti speciali, entrando prepotentemente a far parte di ogni evento o show, diventando uno degli elementi centrali di ogni importante scenografia per eventi live di ogni tipo, dal clapping ai festival più importanti, dalle presentazioni aziendali alle convention più prestigiose. L'unica fontana fredda recitava una delle prime pubblicità ed è proprio lì il segreto del suo successo. Si tratta in sostanza della riproduzione fedele dell'effetto pirotecnico che tutti conosciamo come gerb, e cioè la classica piuma di scintille luminosa, ma in un formato totalmente sicuro. Sparkular genera infatti delle scintille a bassa temperatura, che non innescano incendi, non producono fumi, odori o residui tossici, garantendo quindi la possibilità di essere usata praticamente in qualsiasi contesto, sia indoor che outdoor, senza alcun rischio e senza dover adottare alcuna precauzione se non quella ovvia di buon senso, come di mantenere la giusta distanza dalla bocca di uscita e dall'area di ricaduta della polvere esausta, offrendo così agli spettatori dei nostri show un effetto di altissimo livello che crea un'atmosfera unica, riproduzione perfetta del gerb, anzi in realtà molto più gestibile e pratico rispetto all'effetto pirotecnico originale. Sparkular, quella autentica distribuita in Italia in esclusiva da Audioeffetti, è oramai universalmente riconosciuta come un effetto scenografico indispensabile in moltissimi contesti, dai piccoli parti ai grossi eventi internazionali. Dall'esordio a oggi, il catalogo di prodotti Sparkular, che potete trovare sul nuovo sito www.thespecialistfx.com, si è evoluto e completato di una serie di macchine speciali per rispondere ad ogni esigenza. Le macchine che vi presento oggi sono Sparkular Cyclone e Sparkular Tripol. La Cyclone è senza ombra di dubbio la macchina Spark più potente mai costruita, è in grado di generare scintille regolabili in maniera proporzionale alte fino a 10 metri e oltre a questa impressionante potenza la macchina è dotata di un esclusivo sistema di stop che rende immediato l'arresto di flusso anche dalla massima potenza per la migliore attività e la possibilità di sync negli show. Il serbatoio da 500 grammi garantisce ampia autonomia di effetto e il design outdoor della macchina con circuitazione protetta e connessioni waterproof permette di affrontare senza alcun timore qualsiasi tipo di show o evento in qualsiasi condizione ambientale. La seconda macchina di cui parliamo è Sparkular Tripol. Questa poterosa macchina è sostanzialmente composta da tre motori, tre ogelli di uscita angolati di 25 gradi rispetto al centrale verticale e tre serbatoie di una Sparkular Standard controllati via DMX in maniera indipendente. Dotata di iniettori ad alta velocità, Sparkular Tripol garantisce immediate reattività e una velocità di eruzione incredibile e regolabile in maniera proporzionale da 2 fino a 5,5 metri. Grazie al particolare posizionamento ed inclinazione degli ugelli di uscita, con Tripol è possibile creare scenografie dinamiche uniche ed estremamente spettacolari. Se hai bisogno di maggiori informazioni o vuoi approfondire un argomento in particolare scrivi una mail all'indirizzo stream at audieffetti.it e saremo lieti di risponderti. Ricorda di iscriverti al nostro canale entrando così a far parte della nostra community. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Da Roberto Villa, ciao!